questa è la musica che annuncia una nuova trasmissione affari di famiglia ricordate che dal 24 febbraio noi saremo qui tutti i giorni praticamente dal lunedì al sabato le 12 e 40 sul canale 5 per tentare di risolvere con il giudice Santi Liccheri tutti i vostri piccoli problemi o litigi di famiglia cioè litigate fra fratelli fra cugini marito e moglio quel che è peggio suocere nuora scriveteci affari di famiglia piazza Santi Giovanni e Paolo 800 184 Roma tenteremo di venirvi in aiuto mi raccomando allora dal 24 febbraio 12 e 40 canale 5 ciao 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 ciao